in tutto l'anno uno dei momenti più duri per me fu nel gennaio 2022 venivamo da vacanze andate malissimo rialzo dei contagi terrore non si capiva granché essendo un piccolo comune soprattutto vi lascio immaginare cosa si era creato sia per allarmismo psicologico che reali contagi arrivando nello specifico mi beccai anche il covid fortunatamente passandolo non in modo tragico ma quell'esperienza è stata brutta perché mi ha messo duramente alla prova 12 giorni in quattro mura io con me stessa non avendo contatti con nessuno se non dietro uno schermo mi mancava la mia quotidianità in tutti gli ambiti quel periodo fu più leggero perché purtroppo per fortuna a condividerlo con me nelle loro stanze c'erano i miei colleghi noi siamo uniti dall'inizio ma questa esperienza questo brutto capitolo ancora di più ha unito perché beccandolo in più di uno la vicinanza in quel periodo di tutti noi sette è stata tanta come in tutti i luoghi lavorativi spesso essendo giovani può passare il messaggio di non aver voglia di lavorare o di essere leggeri e abbiamo un po' lottato con critiche dai piani alti come fossimo noi colpevoli di una pandemia che non ha margine di uscita come se noi avessimo voluto beccarcelo insieme ma l'unica colpa che avevamo è stata avere la guardia bassa e forse nella leggerezza di 20 anni aver voglia di normalità diventando leggeri con le norme ma abbiamo fatto forza alzato barriere che ci hanno coeso per far capire che l'unione fa la forza anche in quei casi e che dalla difficoltà o dalle incomprensioni siamo ritornati trionfanti siamo rientrati tutti come se ci fosse stata una vacanza insieme eravamo rientrati alla base questa esperienza credo possa essere importante per me in futuro per prendere maggiore consapevolezza che nel mondo del lavoro devi mandare giù bocconi devi a volte far finta che nulla attorno a te succeda che devi fare il tuo nel miglior modo possibile e qualora non dovesse essere compreso beh allora problemi altrui uno deve continuare a farlo e se sbagliato riprovare per arrivare all'eccezione perché bisogna puntare sempre in alto a prescindere da chiunque che volesse metterci il bastone tra le ruote o che vuole per noi il meglio grazie